confacente alla mente centro spirituale frattocchie agosto 1993 a cura di vb attraverso il cammino della mistica verrà compreso il cammino spirituale e attraverso il cammino della filosofia verrà dato inizio ad una ricerca altamente scientifica ecco il perché di questi anelli che devono saldarsi in quanto ognuno fa parte dell'altro ma ad ognuno verrà data la risposta che è confacente alla mente degli esseri umani incarnati in questo istante di questa vita per molti esseri è incomprensibile il significato del loro camminare del loro vivere fra gli uomini ma è giunto il tempo in cui l'essere umano incarnato deve avere queste risposte e se voi siete chiamati in questo punto cardine è perché siete parte integrante di questa forma pensiero di amore e questa forma pensiero si collega da un punto all'altro dello spazio e tocca il punto più alto grazie a tutti Grazie a tutti